Bambole Reborn, ne parliamo oggi insieme dato che mi è appena arrivata una nuovissima azienda si chiama Nines Doyle, non so se la conosci ma è un'azienda produttrice spagnola, quindi comunque europea e ne parliamo appunto insieme, ma prima di tutto ti invito a iscriverti oltre qua su YouTube anche nei nostri altri canali come TikTok, Instagram e Facebook abbiamo anche il sito internet dove puoi acquistare in maniera completamente sicura tutte le nostre bambole e tutti i nostri prodotti, devi cercare www.bevizu.it o basta cercare Bevizu su Google spero che potrai iscriverti, insomma un semplice tuo like ci farà assolutamente crescere e ci farà ovviamente molto piacere detto questo iniziamo subito con la presentazione delle bambole iniziamo subito con le nostre bamboline, prendo lei che si chiama Susi, è molto bella considerate che queste hanno un'altezza di circa 45 cm come aziende noi trattiamo sia Ingris Doyle che Antonio Juan, entrambe appunto spagnole gli spagnoli ci danno sempre tante soddisfazioni in quanto giocattoli, sono davvero bellissimi soprattutto sono davvero veramente molto particolari, sembrano dei bambini veri ogni volta che i clienti vengono rimangono impietriti davanti a questa parete perché proprio rimangono scioccati dalla perfezione di queste bamboline vediamo se riesci a vedere e allora sì, riesci a vedere, dunque spero che riesci a vedere il viso così curato di questa bambolina con questo nasino e le belle guanciottone, guarda che bella gli occhi sono un cerullo azzurro, comprende oltre il suo vestitino anche delle, come puoi vedere delle scarpette in similpelle con il laccetto rosa davvero molto molto belle, contiene ovviamente anche il ciuccio è una sorta di dudù, ok, riesco a fartelo vedere è questo bellicciotto davvero molto molto carino, è davvero bellissima come sempre le bambole reborn si dividono in bamboline con il corpo totalmente in vinile o silicone oppure altre che hanno gli arti, il viso in vinile e il corpo in tessuto e questo ovviamente cambia il prezzo, diciamo, della situazione in questo caso abbiamo gli arti e il viso in vinile ma come potete vedere è stoffa ovviamente è sempre molto morbido che spero riuscite a vedere questa è davvero stupenda anche perché c'è anche la bambina più piccolina ragazzi, rifiniture fantastiche, rifiniture fantastiche prezzi comunque concorrenziali e davvero bassi per la bambola che è, anche lei è circa 45 cm e cerco di farvela vedere nel dettaglio ok, guardate questi occhioni marroni è così espressivi e questa boccuccia è davvero fenomenale do spazio anche a lei, ok, eccoti spero che riesce a vedere anche lei con questi occhioni marroni e questo vestito è davvero molto molto particolare come potete vedere ha anche il segnetto appunto di Lignes Donil Donil, scusate, qua abbiamo la nostra bellissima bambolina i capelli sono proprio ricissimi quindi ridefinita in ogni sua forma andiamo ad un maschietto eccolo qui, lui comprende il suo ciuccino e il suo sacco nanna davvero molto carino con questi appunto pompon anche lui ha il corpo in stoffa e anche lui è davvero bellissimo ha un viso davvero molto molto espressivo ve lo faccio vedere senza ciuccio eccolo qua, è davvero bellissimo stupendo guardate le manine come sono fatte bene quasi un po' più rosso da questo lato perché ovviamente i bambini come sappiamo si mordono un po' le manine quindi guardate che dettaglio davvero bellissimo veramente complimenti vi faccio vedere la versione femminile del maschietto anche lei ha il ciuccino e anche lei ha il sacco nanna come potete vedere è veramente molto molto rifinita guardate che meraviglia lei circa 45 cm di bontà con queste codine davvero molto molto realistiche ecco qui il visino qui il vestitino davvero molto carino abbiamo una magliettina felpata col cagnolino come potete vedere e poi la felpina per completare il tutto in pandan con i pantaloni anche lei ha le scarpette in similpelle verniciata rosa e i fiocchetti rosa davvero stupenda comprende ovviamente anche il ciuccio quindi è davvero bellissima anche lei ha il pancino insomma in tessuto mentre gli arti e il viso in gomma grazie a tutti grazie a tutti